Oh, e vive, e viva! Era un po' di tempo che non ci veniva a trovare Nandini. Era un pochino, sì. Come andiamo? Bene, bene. Allora, tocchiamoci subito il dente, me lo conferma, è il 16 a sciopero generale. Sì, deciso e proposto assieme alla Will. È confermato. Contro la legge di bilancio, è confermato. E non solo. È per cambiare quella legge di bilancio e per rimettere al centro i bisogni delle persone. Secondo lei, i lavoratori lo sentono questo sciopero? Perché poi io ho raccolto delle voci di lavoratori. Secondo lei? Beh, noi non siamo arrivati a questo sciopero a freddo, a cuor leggero. È un mese e mezzo. Il mese di novembre l'abbiamo passato facendo assemblee nei luoghi di lavoro, manifestazioni nelle varie piazze di sabato e abbiamo discusso con le persone proprio di quello che era necessario fare. Abbiamo raccolto un grande malessere perché la pandemia purtroppo ha aumentato le diseguaglianze. Siamo il paese con i salari più bassi, il livello di precarietà è aumentato, le pensioni e la gente ci va a 71 anni, i giovani non hanno un futuro, i pensionati, la stragrande maggioranza vive... Quindi lei ha sentito per strada che il tema c'è e che viene molto sentito. Il tema esiste e a un certo punto, visto che il confronto col governo non ha prodotto quei risultati che noi ci aspettavamo, anzi in alcuni casi noi ci siamo trovati di fronte al governo che ci diceva che avevano deciso nella loro maggioranza e c'era poco spazio a cambiare decisioni già prese. E in particolare su alcuni temi, la precarietà, le pensioni, il fisco, gli investimenti per creare lavoro, il blocco delle delocalizzazioni, abbiamo ritenuto che quelle risposte non erano sufficienti e che era il momento di mettere in campo anche uno siopero generale. Queste sono le ragioni e le motivazioni. Io le chiedo, un paio di mesi fa, sì, due mesi fa più o meno, questa foto qui, me la fate vedere la foto in cui Landini è con Draghi, la circostanza ce la ricordiamo bene, furono giorni in cui più persone vennero a mostrare l'empatia nei confronti della CGL che era stata sfregiata dal mio punto di vista. Tra queste persone arrivò anche il premier Draghi e invece fu quella braccia, insomma, quel momento di emotività si può definire così, no? Fu ed è stato un gesto, credo, molto importante, non scontato, perché il capo del governo, il presidente del Consiglio senta la necessità di venire lì, di esprimere la solidarietà e quindi di fare un gesto che ha parlato a tutto il Paese. Cioè l'attacco alla CGL non era l'attacco a un sindacato, era un attacco a tutti, ai diritti, e quindi vado... Bene, cos'è cambiato da quella foto lì, Landini? Cioè lei l'ha sentito poi Draghi, ci ha parlato in questi giorni, dico. Abbiamo parlato, dopo gli incontri che abbiamo fatto, no, ma noi abbiamo detto le cose in diretta a lui, quando tra l'altro vorrei ricordare che dopo averci ascoltato, era il 2 dicembre, dopo aver sentito le nostre obiezioni alle proposte che il governo aveva fatto, quando gli abbiamo detto si dà troppo poco ai salari e alle pensioni basse e si premiano i salari o i redditi molto alti, di cui non c'è bisogno, non c'è una lotta all'evasione fiscale degna di questo nome, bisogna intervenire per cambiare quelle cose, il Premier non ha chiuso, ci ha detto fatemi pensare, il giorno dopo aveva un Consiglio dei Ministri e ad esempio una proposta che il Premier ha fatto non è passata dentro il suo governo e cioè in questa manovra sul fisco, stiamo parlando di 8 miliardi, ne servono di più per fare una riforma, ma stiamo parlando intanto di come distribuirli, noi abbiamo detto che bisogna darli ai redditi più bassi, fino a 35 mila euro, visto che l'85% degli italiani non arriva al massimo a 35 mila euro. Al netto degli evasori, diciamo, che pure è un tema. Adesso stiamo parlando di chi paga l'IRPE, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati, e quindi si tratta di ridurre, gli 8 miliardi servono a ridurre le tasse IRPE per loro. E l'obbiettivo, concentriamole, non diamole a redditi alti. Il Premier ci aveva anche ascoltato e a un certo punto ha detto, potremmo fare questa cosa, chi prende più di 75 mila euro per il 2022 non avrà vantaggi, mantiene quello che ha e li avremo in modo che queste risorse, erano 300 milioni, non tantissimi, le possiamo mettere proprio sulla riduzione delle bollette per i redditi più bassi. La maggioranza del Governo gli ha detto di no, non ha fatto passare questa proposta. Perché diciamo che Draghi, ma non lo devo spiegare a Landini, ha un Governo complicato perché stanno tutti dentro. Io continuo a vedere, non solo per l'autorevolezza che ha, ho visto un Presidente del Consiglio che è stato capace a un certo punto anche di ascoltare di quello che era un malessere. Poi non era la nostra proposta. E quindi non è uno sciopero contro Draghi, ma è uno sciopero contro il Governo? No, dico banalmente, le scelte che ha fatto Draghi alla fine, quelle proposte lì le ha fatte, non è che lui non è il Presidente del Consiglio. Appunto. Benissimo. Quello che voglio far notare però è che c'è una maggioranza del Governo talmente vasta che anziché preoccuparsi di quello che è il bisogno, c'è una maggioranza che non è in grado di capire che in questo momento bisogna stare vicini a quelli che stanno peggio. È il messaggio che deve arrivare anche da chi governa e di non lasciare solo nessuno e di essere in grado di ricostruire quell'unità sociale, io credo che sia qualcosa che dà il senso che non funzioni. E lo dico perché mi viene da sorridere. Quelli che oggi dicono, ho sentito prima di entrare, Salvini o altri, vorrei far notare, quelli che dicono che non capiscono perché oggi si dovrebbe sioperare, sono quelli, erano al Governo, che hanno presentato 6.000 emendamenti in Parlamento per cambiare la legge di bilancio che hanno fatto loro. Se loro lo fanno loro va bene. Questo però, Landini, lei ha troppa vita, diciamo, politica alle spalle per non sapere che non è un inedito. No, ma quello che sto dicendo, non è accettabile che venga criticata chi rappresenta la parte più debole di questo paese, ma anche la maggioranza, cioè i lavoratori e i pensionati, che non hanno il diritto di poter dire quello che pensano e di cambiare. Allora, si fermi un attimo, perché? Aspetti, 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 Landini, dobbiamo parlare che è lei. Aspetti, no, costa e costa ai lavoratori, quindi è un sacrificio. È un sacrificio. Allora, ehm... Allora, 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 allora.